Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Intanto ci ritroviamo ora a settembre perché me ero un pochino fermato con i video, anche se non si direbbe, visto l'ultimo che ho fatto il gioco ambientato su Marte, però mi sono fermato un po', erano video programmati perché qui nel suo palco dove registriamo c'è veramente un caldo della madonna. Comunque, ve lo volevo presentare più o meno un mese fa, perché ormai è già perlomeno una ventina di giorni un mese che è uscito, però ve lo porto adesso, tanto non è mai troppo tardi, Nemesis, veramente uno dei giochi più attesi di quest'anno e uno dei giochi che attendevo di più personalmente nella mia top 5, ve l'ho detto all'inizio, c'erano anche U-Boat, quello dei nazisti, e quest'altro gioco portato sempre in Italia dalla Cranio Creations, ovviamente un gioco della Waken Reams, della Rebel, italianizzato, tradotto e portato in Italia dalla Cranio. Nemesis è un gioco spettacolare che vi giuro adoro, perché le regole sono poche e semplici, oddio, uno apre la scatola, tanto ora vi faccio vedere, tutta la roba che c'è dentro alla fin fine sembra tanta, perché non è che sembra, è tanta, però le regole sono giuste, non è come altri giochi che vi ho fatto vedere tante ma semplici, oppure poche ma difficili, sono giuste e facili. Secondo me il gameplay, tempo una partita, è già capito assolutamente tutto, è molto facile da padroneggiare come gioco, ovviamente un gioco dalle mille sfaccettature, perché immaginatevi veramente non hanno potuto chiamarlo Alien, Nostromo, perché praticamente la nave, la Nemesis è la Nostromo del primo Alien, e l'equipaggio a bordo è il capitano e tutti gli altri pilota, un po' ricordano un po' il capitano d'Allas, Ripley di Alien e tutti quei personaggi lì, ed è veramente molto bello perché è un gioco horror di sopravvivenza che si può giocare in varie modalità, si può giocare in modalità normale, che è un semi cooperativo, quindi dove ognuno punta a sopravvivere, quindi morts tua vita mea, completamente cooperativo, quindi contro gli alieni, e c'è anche una modalità dove una volta morto un giocatore può rientrare come alieno e quindi usare gli alieni sulla mappa, è un gioco bellissimo, longevità assurda, ci potete fare 600.000 partite e non sarà mai la stessa. Unboxing, la confezione del gioco è bella grande, guardate l'ha portata alla mano, più che altro non è tanto il fatto grande, è il fatto che è bella spessa, è bella grossa, è bella tozza, però c'ha veramente tantissima roba all'interno e le miniature ragazzi, soprattutto quelle degli alieni sono da paura. Il disegno è bellissimo, i colori scuri, veramente freddi in un'ambientazione come quella di Alien, e ricorda un po', dai, uno xenomorfo è un'immagine, il capitano d'Allas o Kane nel primo film di Alien. Apriamo il regolamento, fatto nello stile di Monster Slaughter, a striscia, come i fumetti di una volta, molto dettagliato e qui si trova qualche piccolissimo errore di traduzione. Comunque ragazzi andate sul sito della Cranio perché trovate l'errata da scaricare, che poi alla fin fine non è tutto il manuale, ma sono soltanto le pagine leggermente fallate, ma va sicuro, funziona bene, non c'è nessun problema di traduzione grosso che ti blocchi il gioco e poi, guardate, anche la traduzione e i colori sono tutti quanti fedelissimi all'originale, quindi va più che bene, il regolamento è molto semplice e veloce. Tabelle riassuntive delle stanze, con tutte le azioni che potete fare nelle stanze e nei moduli della Nemesis, e ovviamente è double FAS, quindi ci sono anche le stanze speciali come i motori, la cabina di pilotaggio e tutto il resto. Quindi se entrate in una stanza, a parte che anche nella stanza stessa c'è sempre scritto cosa potete fare e cosa non potete fare, però leggendo direttamente questo lasciate la portata di mano per leggere, per avere più chiara le idee su cosa fare dentro quella stanza. I tile di gioco, con le varie stanze, come vedete, stanze, motori, Vediamo sotto cosa c'è, ah, la plancia dell'intruso, le capsule di salvataggio, i motori e le altre parti della nave. Piccoli token che rappresentano gli incendi, che potrebbero esplodere a bordo delle stanze della Nemesis. Token suono e movimento degli alieni, degli intrusi. Dadi per gli attacchi dei personaggi dell'equipaggio della Nemesis e per il tiro rumore, quello nero. Sacchettino, con il nome della nave, dove mettere all'interno tutti quanti i token che vanno a rappresentare i vari tipi di alieni, larva, regina, che ci sono all'interno del gioco. Basettine bianche, su cui fissare le porte. Plance di plastica dei giocatori, dove mettere tutte quante le vostre carte qua su. Scanner, dove mettere dentro le carte infezione, che è la parte più figa del gioco per vedere se siete stati infettati da una larva e anche qui vi sfondano il petto e nasce un alieno, uno xenomorfo. Segnalini bianchi, per i vari effetti del personaggio da applicare sulla scheda. Quadrettini rossi, anche questi per segnare punti feriti e cose del genere, ma soprattutto per tenere il conto delle munizioni, che sono veramente pochissime, delle armi che troverete in gioco. Pedine colorate, da mettere sotto i membri dell'equipaggio. E segnalini, danneggiamento e rotture delle varie stanze della nave. Per farvi vedere una piccolezza, ad esempio una larva, questo qui è l'alieno più debole, con un solo punto ferita al primo stadio, che quando vi aggredirà non vi farà nessun tipo di punto ferita né niente, ma vi si attaccherà addosso e vi impregnerà, un po' come Facehugger di Alien. Un altro tipo di alieno, al primo stadio, quasi del tutto formato, e questi iniziano ad essere veramente, veramente cattivi. Occhio. Questo è l'adulto, che se vedete ricorda un po' uno xenomorfo, ecco perché io adoro questo gioco qui in Nemesis, sembra uno xenomorfo, e poi dietro c'ha delle lance, delle lame, cose del genere, sembra fuso con Dead Space. Sembra uno xenomorfo misto a un necromorfo. È veramente bello, ragazzi guardate il dettaglio, immaginatevi le dipinte, more preparate a dipingerle. Guardate ragazzi, a sinistra è quello di Nemesis, e a destra il classico xenomorfo di Alien Contro Predator. Cioè, se non si assomigliano. Ora, quelli di Nemesis sono decisamente più grandi, è vero, però, cioè, guardate lì. Mamma mia. E poi un personaggio come ad esempio il soldato, che è quello picchia picchia più forte all'interno del gioco. Ed è un personaggio, tipo lo scienziato, che ovviamente avrà abilità di scienza, sblocco, terminali e cose del genere, e non sarà prettamente di combattimento. Però, di solito, l'ufficiale medico è anche quello che si basa più sulle cure, e sul cercare, più che uccidere come il soldato, di sopravvivere. La Nutrice, che è una specie di guardia personale della regina, è il penultimo alieno più forte, per poi passare alla regina, che è una miniatura, secondo me, da dipingere e da mettere in vetrina, assolutamente. E la regina aliena, che, guardate là, che sfonda, praticamente sta pestando un tombino, da cui sotto escano tutte le larve. Bellissimo. Mamma mia, queste sono miniature veramente da paura, e quando tappare in gioco devi avere paura perché si è morto. Mazzo delle carte azione. Mazzo delle carte attacco dell'intruso. Mazzo degli obiettivi di missione personali e corporativi. e bustine con la sostituzione delle carte fallate da parte della cranio. Quindi le carte che erano fallate all'interno del gioco, chiunque l'abbia comprato a Kickstarter o a versione retail, sostituitele con queste che vi arriveranno in queste buste e mettetele direttamente nei mazzi. Queste sono quelle corrette. Questa è la plancia di gioco, è la nave Nemesis, con tutti quanti i suoi corridoi, moduli e stanze. Partendo dall'alto abbiamo la plancia di comando, questa zona qui, con accanto la carta delle coordinate. coordinate che possono guidarci verso la Terra, Marte, Venere o nello spazio profondo. Ovviamente la Nemesis e l'equipaggio sopravviverà solo se la nave andrà verso la Terra. Tutte le altre destinazioni saranno magari la vittoria di uno, ma il fallimento di tutto quanto alla squadra. Poi abbiamo le stanze, che vedete ogni stanza è sempre coperta ed ha un numero centrale. Un 1 oppure, come in quest'altra, ha un 2. Libernatorium, che è la stanza del Creosonno all'Alien, dove l'equipaggio partirà inizialmente. Capsule di salvataggio, che sono bloccate ma si sbloccheranno in un certo momento del gioco, come vi dirò successivamente. Altre stanze e i motori. I tre motori del gioco numerati, i motori 1, i motori 2 e i motori 3, che potranno essere girati per vedere sotto se il motore è in funzione o è danneggiato. Per vincere la partita, chi rimane a bordo della Nemesis, chi non scappa con le scialuppe di salvataggio, dovrà tenere in vita due dei tre motori. Se due dei tre motori saranno danneggiati, la nave salterà per aria. Tracciato del tempo, che inizia dal 15 e va fino all'1, passata questa soglia blu, le capsule di salvataggio si apriranno e sarà possibile scappare con le capsule di salvataggio. Quando arriverà in fondo, la nave farà il salto nell'ipespazio e tutti coloro che non si troveranno congelati nella stanza del Creosonno moriranno. E dal 6 all'1, l'autodistruzione. Se qualcuno dell'equipaggio attiverà l'autodistruzione, oppure nel caso che un evento lo attivi, quando l'autodistruzione ogni turno scalerà di 1 e arriverà a 0, la Nemesis salterà per aria. Plancia del personaggio, in questo caso abbiamo preso una a caso che è il capitano, con il riassuntivo delle azioni che possono essere fatte. Azioni base e movimento cauto. Il mazzo di 10 carte personali del capitano, perché ogni personaggio, ogni classe, chiamiamoli così, ha un mazzo personale, quindi ogni personaggio è completamente differente dall'altro, ed è questa la cosa bella di Nemesis. La parte delle creazioni, perché combinando oggetti, un po' come si è visto in Wugoster, ad esempio, potremo costruire delle armi, quindi combinando i vari simboli troveremo fuori degli oggetti. Ferite del personaggio, due ferite lievi e poi si va sulle ferite critiche. Pedina, ovviamente, miniatura del personaggio. Laggiù, in fondo, vedete, ogni personaggio all'inizio della partita avrà due carte missione, che saranno un obiettivo personale e un obiettivo corporativo. La prima volta che entrerà un alieno in gioco, che si dovrà risolvere un evento, un combattimento, un incontro, tra un personaggio e un intruso, tutti i giocatori, tutti, non soltanto quello che ha incontrato l'alieno, dovranno scegliere una delle due carte che diventerà la missione attiva da svolgere all'interno della Nemesis. Quindi potrebbe essere o la missione personale o la missione corporativa. Scegliete voi quella che vi aggrada di più, ovviamente andando a leggere quello che c'è scritto sopra. Se nella missione c'è scritto salvatevi, vi dovete salvare. Se nella missione c'è scritto dovete essere l'unico sopravvissuto, dovrete uccidere tutti gli altri giocatori, magari potrebbe esserci scritto una missione scientifica, cerca di capire una debolezza di un alieno e poi dopo magari manda un segnale alla terra per farti venire a recuperare. Voi dovrete fare quello che ci sarà scritto nella missione. Carta equipaggiamento di partenza del personaggio, in questo caso qui nel caso del capitano è una pistola. Due carte equipaggiamento della classe, sempre del capitano, che potranno essere sbloccate quando arriverete nella stanza o farete quello che c'è scritto nel prerequisito e in fondo il token del gatto, che ricorda un po' Jones di Alien, che è il token del giocatore corrente. Quindi il turno inizierà dal giocatore che muove il capitano per poi muoversi in senso orario. Nel turno successivo, dopo la fase degli eventi e degli intrusi, quel token dovrà essere passato al giocatore accanto, sempre andando in senso orario. All'inizio del gioco, quello che bisogna fare è dal mazzo di 10 carte laggiù, da questo mazzo qui, pescare 5 carte. La mano del giocatore dovrà essere sempre composta da 5 carte, quindi all'inizio del turno successivo, nel caso ne abbiate una o due ancora in mano, dovrete pescarne fino ad averne sempre 5. Quindi dal mazzo dei 10 laggiù pescare 5 carte e le potete mettere comodamente qua su in cima, in questo stand che è fatto apposta per reggere le vostre carte. Ovviamente magari tutte non ci staranno, tenetela in mano, è una cosina che serve più che altro per vedere il numero del giocatore che potrebbe servire per eventi e cose del genere. Se un evento dovesse dire, questo evento andrà a colpire il giocatore numero 2, voi in questa carta qua giù che vedete davanti, ma anche nello standy, avrete un numerino che vi dirà, sono il giocatore 2? No, sono l'1. Ok, quindi questo evento non colpirà a me. Mazzi di carte creazione, quindi come vi ho detto, usate un'azione per creare un oggetto, e queste le ho messe coperte ragazzi, ma le potete mettere scoperte, perché chiunque le deve poter vedere, insomma, deve sapere cosa va con un'azione a costruire. Mazzo degli oggetti strumenti, strumenti, cure, e strumenti qua giù in fondo invece che sono quelle rosse, più equipaggiamenti, armi da fuoco e cose prettamente per combattere. Girando per la Nemesis, vedrete che le stanze avranno sempre un colore, quindi in una stanza gialla andrete a pescare sempre da questo mazzo, in una stanza verde andrete a pescare da questo, in una stanza rossa invece andrete a pescare da questo mazzo qua giù. Quindi voi sprecate un'azione di cercare, se ovviamente avete una carta a cercare, perché cercare non è un'azione standard del personaggio come muoversi o sparare, dovete avere una carta che vi dica, sì, potete cercare in quella stanza. Giocherete con la carta e automaticamente potrete andare a pescare una di queste carte a seconda del colore della stanza. Alcune stanze hanno tutte e tre colori, quindi il problema non si pone. Plancia dell'intruso, quindi degli alieni. Mettete tutte le uova degli alieni, queste qua giù, qua su in cima, nella sezione appunto dove c'è scritto sulla plancia. Tutti i simbolini che vi stanno a ricordare che cosa sono, ad esempio uno se li potrebbe dimenticare, questa è la larva, questa mezza lunetta, qui invece è l'arachnide, l'adulto, questa specie di esse e così via. E sotto pescate a caso dal mazzo delle debolezze tre carte e mettetele una per ogni cosa. Ad esempio, nel gioco sarà possibile prendere il corpo di un compagno deceduto per esaminarlo e pescare, girare una carta debolezza. Oppure raccogliere il corpo di una larva o di un alieno abbattuto per portare all'interno della stanza al laboratorio, fare un'analisi e girare la carta debolezza. Girando una carta debolezza, ovviamente scopriremo un punto debole o qualcosa del genere degli alieni che ci darà un bonus al combatterle, annientare le cose del genere, ma anche semplicemente a salvarci. Una delle missioni corporative o personali, soprattutto quelle corporative, come abbiamo visto in Alien, la Wayland e gli Utani, vi potrebbe chiedere di andare nel laboratorio per fare un'analisi su una larva aliena, su una cosa del genere, per riportare informazioni sulla Terra. Tutti i personaggi, come detto, partano nell'Ibernatorium, quindi alla stanza del Creosonno, e questo gioco è bellino perché ci dice voi non sapete, vedete, le stanze sono coperte, quindi non so fino a che non le vada ad esplorare cosa c'è a bordo della Nemesis. E uno potrebbe dire, però è un po' strana sta cosa, perché insomma siamo all'equipaggio di questa nave e non conosciamo com'è fatta la Nemesis, mi sembra un po' strana. Però risvegliandosi dall'ipersonno prolungato, quindi non si dice, no, non si va a pensare qualche giorno o al massimo qualche settimana. Qui si parla anche di sonno per anni, ipersonno per mesi se non per anni, come abbiamo visto anche in Alien, 50 anni e cose del genere. Quindi risvegliandosi dall'ipersonno prolungato ci vuole un po' di tempo perché è una specie di coma farmacologico indotto, anche a livello scientifico, lo stanno tra l'altro cercando di studiare recentemente, e l'equipaggio non saprà, non si ricorderà lì, per lì ci vorrà qualche ora per ricordarsi un pochino anche come è fatta la nave e quindi girando per questi condotti intricati, labirintici, di questa Nemesis è ricordarsi come erano messe le stanze. Ci sta, ci può stare. Immaginatevi un equipaggio che si risveglia dopo 20 anni e va un po' a tastoni sulla nave per ricordarsi un po', insomma, più che altro come erano disposte le tante stanze che ci sono. Nel gioco ciascun giocatore ha due azioni, due azioni che possono provenire dal movimento che possiamo fare, oppure attacco nel caso di un alieno, o anche fare l'azione di una carta, che vi ricordo utilizzare l'azione di una carta conta come azione. Quindi nel caso io dal mio mazzo di 5, come vi ho detto inizialmente, prendessi una carta, le carte possono essere utilizzate in due modi. Possono essere utilizzate per pagare un costo, quindi un'azione, tutte quante le azioni del gioco, come muoversi, sparare, attaccare in corpo a corpo e cose del genere, richiedono un punto, un valore. Quindi voi prenderete una carta e la giocherete. Nel caso io decida di muovermi, seguendo un corridoio per andare in una stanza, è un'azione che richiede 1, un punto. Quindi io prendo, scarto una carta e faccio la mia azione. Quindi scartando quella carta faccio la mia azione. Ricordatevi che per fare azioni dovete sempre spendere un tot di carte quante sono richieste dai punti valori dell'azione. Se io volessi fare l'unica azione che mi costa 2, che è un movimento cauto, per non fare rumore o per non attirare l'attenzione degli alieni a bordo della nave, potrei, perché loro si sono appena risvegliati, però l'allarme, l'intelligenza artificiale gliel'ha detto che la nave è stata infessata dai alieni. Per un'azione che abbia un costo di 2, invece potrei fare un movimento cauto in questa stanza qua giù, invece di giocare una carta ne dovrei giocare 2, perché è un'azione che costa 2 e quindi dovrei giocare 2 carte. In altro caso, se io come azione mia dicessi, ma questa riparazione di base mi serve, perché devo riparare una stanza rotta, un terminale, una cosa del genere, quindi io voglio usare questa carta. Quindi con la mia azione delle 2, e quella non c'entra niente, avete sempre 2 azioni come ho detto, con la mia prima azione delle 2 gioco questa carta, però questa carta ha un costo di 2. Quindi vuol dire che per giocare questa carta non solo dovrò usare una delle mie 2 azioni, ma dovrò anche spendere 2 carte che ho in mano, perché il costo è 2. Quindi scarto queste 2 carte, scarto la terza e ho una scelta di riparazione che potrò fare. Comunque, il regolamento di Nemesis è molto facile, ragazzi vuole che durante un'azione, io scarto una carta soprattutto nella parte iniziale del gioco, io mi possa muovere seguendo dei condotti. Ricordatevi che né alieni né equipaggio si possono mai fermare né condotti, i condotti sono solo di passaggio per arrivare alle stanze e ovviamente tipo da Libernatorium io non posso andare in questa stanza qui, perché questa stanza non è connessa da un corridoio con Libernatorium, quindi dovrei fare un giro. Mettiamo caso che io da qua giù vorrei volermi spostare qui, quindi dico ok, spreco la mia carta, gioco la mia carta, tipo prendo questa, questa l'ho giocata per fare questa azione, ricordatevi che ne avete sempre 5 e mi sposto in questo corridoio in questa stanza, seguo il corridoio e vado qua giù. La prima cosa che dovete fare è sempre, vedete, sopra ognuno c'è sempre un piccolo esagono sopra ogni stanza e vedere cosa c'è scritto sull'esagono. In questo qui c'è scritto che la stanza è malfunzionante, quindi dovrò andarci a mettere uno di questi simbolini qua giù sopra la stanza di sabotaggio insomma che la stanza è rotta e ha un valore di 1 quindi vuol dire il numero di oggetti che troverò all'interno. Quando si va a girare una stanza, intanto questo lo potete elevare perché tanto avete già visto cosa c'era da fare, girate la stanza per rivelare cos'è, vedete che la stanza ha sempre una freccettina rossa in uno dei lati, no? Più o meno ce l'hanno, no più o meno ce l'hanno tutte, una freccettina rossa. voi dovete sempre mettere il valore che avete visto sul token quindi di uno di oggetti che vada a toccare la freccia come vedete c'è sempre da 1 a 4 non sono mai di più ovviamente da 0 a 4 quindi questo cosa vuol dire che al momento freccetta rossa sull'1 io so che in questa stanza c'è ancora un oggetto disponibile se l'oggetto fosse trovato girerò la stanza sul valore di 0 per ricordarmi che questa stanza è vuota quindi la metto così ci metto sopra questo segnalino questo token che mi ricorda che la stanza è rotta è questa la stanza generatore vedete c'è un computerino qua su sul disegnino un computerino intanto ci metto la miniatura c'è un computerino blu quindi quando c'è un computerino blu vuol sempre dire che in questa stanza si può fare un'azione e nella stanza del generatore facendo un'azione che costa 2 quindi primo movimento vi ricordate mi sono mosso e ho scartato una carta cioè prima azione seconda azione potrei attivare non ora no perché la stanza è rotta la dovrei prima riparare mettiamo caso questa stanza fosse riparata io potrei usare con la seconda azione che mi è rimasta l'azione della stanza e mi dice di usare due punti quindi al solito io dovrò prendere due carte e scartarle perché mi servono il valore della stanza mi richiede almeno due carte e praticamente il generatore può iniziare o fermare la sequenza di autodistruzione della Nemesis come vi ho fatto vedere all'inizio nella carrellata del tabellone questo perché dovrei distruggere la Nemesis che ne so che nella mia carta corporativa abbia scritto ad esempio la missione nessuno deve sopravvivere ti devi salvare solo te perché ci sono anche missioni così eh ragazzi che vi diranno vi dovete salvare soltanto voi non si deve salvare nessuno poi non ce ne frega se trovate gli alieni o meno devono morire tutti e quindi io potrei attivare l'autodistruzione entrando nella stanza nel caso io abbia una carta di ricerca tipo questa facciamo conto che io la mia prima azione è stata muovermi la seconda dico in questa stanza c'è un oggetto uso la mia carta di ricerca dovete averla costo 0 quindi la gioco come seconda azione non devo giocarci sopra altre carte vi ricordo giro la stanza a livello 0 perché non ha più oggetti al suo interno e è una stanza gialla col bordo giallo vado a pescare una carta loot giallo carta loot giallo leggete cos'è ve lo mettete nell'equipaggiamento ovviamente se lo potete portare se avete le mani piene non lo potete utilizzare e ricordatevi che ogni volta che vorrete utilizzare se una volta o più quello c'è scritto nella descrizione il suo effetto c'è qua giù il simbolo che fa vedere che non è una cosa da distanza quindi non è un'arma da fuoco non serve per il combattimento per usarla dovrò anche scartare una carta quindi non solo per usare questa cosa qui dovrò fare un'azione ma dovrò anche scartare una carta perché ha un costo di uno cosa importantissima ma quando vi spostate all'interno di una nuova stanza quando vi spostate all'interno di una nuova stanza fate tutto quello che vi ho detto girate prima il token col piccolo esagono girate la stanza mettete il livello degli oggetti puntato sulla freccia e poi dovete sempre tirare un dado questo dado qui in nero che vi ho detto all'inizio all'unboxing è il dado per il movimento voi prendete questo dado lo tirate e in questo caso qui è andata male e bene perché è uscita un'artigliata un'artigliata questo simbolo qui cosa vuol dire vuol dire che nel caso delle stanze adiacenti fossero presenti degli alieni degli intrusi tutti quanti si sposteranno dentro la mia stanza e saremo già in combattimento però in questo caso qui non ce ne sono quindi è un niente di fatto nel caso invece esca un valore che va da 1 a 4 sul dado voi dovrete prendere un token di quelli gialli del un token rumore che sono questi qui e dovrete sempre metterlo sempre nella posizione nel corridoio il cui numero è uscito sul tiro di dado quindi se io ad esempio avessi tirato un 1 sarebbe andato nel corridoio tecnico nella ventilazione e quindi questo vede una regola speciale dove se ricapitassi in qualsiasi altra stanza un valore che ti rimandi a un corridoio tecnico automaticamente ci sarà un incontro se io avessi tirato ad esempio un 3 avrei messo il token suono in questo corridoio metteteli sempre centrale tanto va bene uguale si sa che il corridoio è questo quindi potete metterlo tranquillamente anzi metteteli al centro dove c'è il simbolino che è anche poi il punto dove si potrebbero mettere le porte per chiusure accessi e cose del genere io ho messo un token qui magari spostandosi dopo un altro giocatore potrebbe entrare in questa stanza e a sua volta dovrebbe ritirare un'altra volta il dado rumore il dado rumore non si tira se nella stanza dove vi muovete è già presente un altro membro dell'equipaggio o c'è già un alieno in quel caso lì c'è già un incontro o c'è un'altra persona che fa il rumore non serve tirare un altro rumore però mettiamo caso che questa stanza fosse già stata esplorata e qui ci fosse un token rumore io mi sposto vado qua dentro tiro il dado il dado viene fuori 3 nel 3 c'è già un token rumore quindi nel caso ci sia già un token rumore rimuoviamo tutti i token nei dintorni di questa stanza connessi quindi dal 3 dal 2 dal 4 e dall'1 connessi a questa stanza li togliamo tutto e si rivela direttamente un incontro per rivelare un incontro andate nel sacchettino dove dentro ve l'ho fatto vedere inizialmente dove dentro avete messo tutti quanti i piccoli token che vanno a rappresentare gli alieni andate a mescolare questo sacchettino qui l'andate ad aprire e andate a pescare e tirare fuori qualcosa quindi io metto questo e questo è quello che ho pescato quindi nell'incontro che è venuto fuori col tiro del rumore viene fuori che c'è questo simbolo che ci è andata veramente male perché è una nutrice quindi una delle creature più forti del gioco già per l'esempio è andata male quindi vuol dire che in questa stanza arriverà questa nutrice una volta giocato il token lo mettete da parte perché potrebbe riandare dentro al sacchettino per ora rimane scartato però giratelo sull'altro lato c'è sempre un numero che va da 1 a 5 se il numero di carte che avete in mano è inferiore non uguale o inferiore è inferiore al valore che c'è dietro il token dell'alieno dell'intruso appena rivelato l'alieno vi farà un attacco a sorpresa quindi subito appena entrerà in gioco vi farà un attacco e per fare un attacco l'intruso ovviamente pesca sempre una delle carte attacco intruso la giriamo e ci dice quale tipo di alieno colpisce e non è questo il caso perché qui avrebbe colpito solo una regina quindi il colpo va a vuoto e nel caso ci avesse colpito ci direbbe anche qua sotto nella descrizione che cosa ci accade che tipo di ferita ci fa però se noi abbiamo 4 o più carte in mano non ci farà un attacco di sorpresa e ce lo farà invece nel suo turno altre azioni che si possono fare nelle stanze sono ogni stanza alla sua azione ok e ogni stanza al suo livello di ricerca quindi livello di ricerca per trovare oggetti e cose del genere altre cose importanti della nave sono la sala motori che vi ho fatto vedere principalmente all'inizio nella sala motori vi ricordo che 2 dei 3 motori devono sempre funzionare perché se non funzionano la nave esploderà ovviamente a fine partita se 3 su 3 motori sono sabotati non succede niente però al momento del fine partita del salto della nave quando va a saltare e 2 su 3 motori sono danneggiate la nave salterà per aria e la plancia di comando delle coordinate dove se la nave non sarà diretta verso la terra tutto l'equipaggio a bordo ibernato morirà quindi che modo avete nel caso dobbiate uccidere i giocatori a bordo di distruggere la nemesis ci sono 4 modi o che 8 o più stanze siano incendiate 8 o più stanze della nemesis siano rotte 2 su 3 motori siano danneggiati le coordinate non vi portino verso la terra e il quinto perché me l'avevo dimenticato ma c'è un quinto che l'autodistruzione si è arrivata al valore di 0 e la nave salterà per aria questo è il turno dei giocatori ragazzi usate avete due azioni le azioni costano un punto a parte il movimento cauto il movimento cauto cosa vuol dire mettiamo caso che in questi corridoi qui accanto più corridoio tecnico ci siano già dei cursori del movimento del suono quindi prendendoli qua giù dalla bustina per farvelo vedere velocemente ce ne potrebbe magari essere uno qui uno qui e uno perché no nel corridoio tecnico io facendo un movimento qua giù dentro e andando a tirare il dado del rumore potrei dire sì però almeno che non mi venga un 2 tutti gli altri risolverò un incontro per forza potrei fare un'azione che mi costa sempre una delle mie due di movimento cauto però invece che scartare una carta ne dovrò scartare due e facendo il movimento cauto potrò decidere il cursorino rumore lo dovrò sempre mettere però deciderò io dove quindi invece di tirare il dado dirò ok lo metto nel 2 mettendolo nel corridoio 2 tutta la stanza è piena il prossimo che entrerà qua dentro almeno che non gli esca un tiro particolare della X del non rumore e cose del genere risolverà un incontro però almeno io per questa volta passo e non succede niente quando si va a combattere gli alieni che gli alieni attaccano solo nella loro fase quindi soltanto finiti tutti quanti turno del primo giocatore secondo terzo quarto toccherà agli alieni e quando vi attaccheranno se ovviamente saranno presenti nella stanza insieme a voi come fatto a vedere precedentemente andranno sempre a pescare una carta che è attacco dell'intruso andando a pescare una carta attacco dell'intruso ci sarà sempre il tipo di alieno che attacca come vedete qui quindi in questo caso era una regina la nutrice non attacca e sotto il tipo di danno che vi farà nel caso invece siamo noi ad attaccare l'alieno nel nostro turno e l'azione di attacco sia in corpo a corpo che a distanza costa sempre un'azione noi andremo ad attaccare e dovremo tirare uno di questi dadi rossi uno o più insomma ce lo dirà il tipo di arma che andremo ad utilizzare tireremo questo dado rosso e questo dado rosso ha un nulla di fatto un simbolo che ci fa vedere il tipo di alieno che abbiamo colpito un altro simbolo che ci fa vedere il tipo di alieno che abbiamo colpito facendogli una ferita oppure una ferita a chiunque o due ferite a chiunque per vedere il tipo di ferita che abbiamo fatto all'alieno andiamo sempre a pescare per vedere il valore di ferite che abbiamo fatto un intruso in questo caso facciamo conto che ne abbiamo tirate due vi faccio questo esempio qui andiamo a pescare una carta attacco dell'intruso la giriamo e per ogni dado tirato non per ogni ferita che facciamo quindi per questo dado gli gireremo una carta andiamo sempre a vedere il valore qua su in cima che sono le ferite dell'alieno quindi in questo caso gli ho fatto due ferite gli metteremo due tocchi in ferita accanto per ricordarselo però lui ha 5 punti ferita e non è morto nel caso gli facessi un secondo attacco facciamo conto che tiro un secondo dado e questa volta mi viene un 1 gli aggiungiamo una ferita quindi adesso ha 3 ferite e vado a girare a sua volta un'altra carta questa volta la carta per la seconda ferita mi dice 2 quindi le 3 ferite sono abbastanza superiori almeno quanto o superiori ad ucciderlo e l'alieno viene rimosso ci va di sfortuna che sia la nutrice che la regina aliena non girano una carta soltanto per vedere quante ferite hanno ma ne girano due e vanno a accumularsi perché ovviamente sono più forti e sono più resistenti questa è una regola bellina che cioè non sai mai effettivamente quante ferite abbia un alieno se la tua ferita è mortale se l'hai uccisa e cose del genere perché l'ho ferito mortalmente ma non è morto oppure potrei pensare di averlo colpito bene ma il colpo non è andato abbastanza a fondo da ucciderlo e questa è una cosa che mi piace da morire poi ovvio quando avrà quattro ferite la carta dopo è morto cioè dopo un po' mojan per forza però perché no un alieno potrebbe morire con una ferita o magari con quattro perché l'abbiamo colpito male questo ragazzi è bene o male il gioco poi ci sarebbero tantissime altre cose in più da dirvi perché no tantissime ci sono altre cose da spiegare però il succo del gioco è questo ogni personaggio ha due azioni ogni azione ha un costo in carte ogni azione della stanza ha un costo in carte e poi ovviamente il vostro obiettivo è scritto nella vostra missione quindi nella vostra missione sapete se dovete sopravvivere se dovete ammazzare tutti gli altri giocatori se dovete prendere un campione di un alien e riportarlo sulla terra quindi voi potreste dire io il campione l'ho preso della nemesis se salta tutto per area non me ne frega niente prendo e me ne vado a bordo di una scialuppa di salvataggio una di queste qua giù vengo sparato fuori arrivo sulla terra almeno che io non sia infettato mi salvo e non me ne frega niente di quello che succede a bordo quello che potrebbe però capitarvi in queste case qui l'unica cosa è nel mazzo ferite perché le ferite lievi non contano niente però quando prenderete una ferita grave dovrete pescare una carta ferita grave come nelle case della follia e avrete un malus che vi seguirà per tutta la partita oppure ci sono anche le carte infetto e poi alcune ferite potrebbero portarci delle carte contaminazione che hanno il dorso normale delle carte azione perché sono carte che vi andranno a prendere posti in mano le carte contaminazione potrete andare nel laboratorio o in altri modi per togliervele e dovrete prendere questo lettore qua giù questo lettore di carte infilarci la carta dentro e andare a leggere quello che c'è scritto se una delle parole mi sembra la seconda ho visto se una delle parole qui presenti ha la scritta infetto vuol dire che sarete infetti e a quel punto avrete una larva al vostro interno ve la potrete togliere ovviamente in un laboratorio di analisi scientifico medico per togliervela però rischierete anche di morire e questo ragazzi è bene o male il regolamento di Nemesis è un gioco molto veloce ed è un gioco semi cooperativo perché potete collaborare per sopravvivere però ognuno deve salvare la propria pellaccia ragazzi in questo gioco si vince in due maniere salvandosi e facendo la propria missione tutte e due se non fate la vostra missione avete perso se la fate ma morite prima di salvarvi da arrivare alla capsula di salvataggio a libernazione siete morti anche in quel caso modalità cooperativa e volendo anche una modalità pvp più altre espansioni che usciranno in futuro ragazzi è una figata assurda veramente bellissimo che dire ragazzi è uno spettacolo questo Nemesis è fatto veramente molto bene ho visto che tante persone si sono lamentate della localizzazione in italiano da parte della cranio perché perché sono arrivate delle carte in più c'erano delle carte fallate all'interno la cranio l'ha già ristampate e te le mandano direttamente in una bustina piccolina cioè già fatto quindi tanta gente si è lamentata e poi magari una piccola traduzione sì è vero magari ci voleva un lavoro un attimino più attento e accorto però una cavolata tipo invece che scrivere il primo astronauta che morirà oppure il primo astronauta sciagurato che morirà invece è scritto il povero Cristo che si troverà a morire sì povero Cristo è un po' una traduzione un po' così magari a volte c'è qualche problema di punteggiature e tutto però ragazzi io vedo gente sui forum che esplode e tutto quanto è incazzate neri ma quando trovate gli errori di traduzione in videogiochi AAA quando guardate un film e magari il regista di quel film non si è accorto può capitare che il tizio aveva un bicchiere dello starbuck sul tavolo oppure una scena dove si vede in un medioevo passare dietro un aeroplano succedono a volte ragazzi le piccolezze sono ovvio se ci fossero stati 10.000 errori poteva anche dire no cranio non ha fatto un bel lavoro ragazzi sono tre errori in croce più le carte che ci stanno rimandando a tutti quindi di che cavolo vi lamentate detto sincero il progetto perfetto non esiste ci sarà sempre un errore e una sbaffatura nel mezzo c'è anche nei giochi della blizzard con la differenza che la blizzard fa le patch e li corregge le patch come le fanno in un gioco scatolato è normale è normale nella vita fare un errore e non dovete incazzarvi perché il gioco prosegue tranquillamente anche con queste piccolezze poi basta fare qualche domanda nei forum ma questa regola mi sembra un po' strana ma è così o non è così e gente ti risponderà o magari ti scarichi anche il regolamento in inglese gratis te lo tieni sul telefonino da qualche parte guardi se la regola tradotta in italiano è tradotta bene comunque se le dovessi dare un voto gli darei un 9 su 10 perché è tutto quello che mi aspettavo e voglio fare l'esperimento come ha fatto un ragazzo veramente di mettere la mappa vabbè della Nemesis quella della nave che c'è qui dentro metterci le miniature dei sopravvissuti della nostromo di Alien e al posto delle alieni di Nemesis metterci le xenomorfi secondo me ci saranno da paura questo ragazzi per tutti i fanatici di Ridley Scott di Cameron e dell'ambientazione di Alien è un gioco e di survival horror è un gioco che non vi deve mancare perché è bellissimo ragazzi bellissimo meglio di questo in un gioco del genere ce n'è pochi case della follia e cose del genere ma sono pochi i giochi che come Nemesis ti danno a fine partita veramente sembra di aver vissuto un film e non ci riescano tutti quindi un 9 su 10 meritatissimo ragazzi spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i nostri social Instagram e tutti gli altri casella postale nel caso vogliate inviarci del materiale poi c'è anche Instagram Facebook e tutto il resto e niente fatemi sapere cosa ne pensate ciao ragazzi alla prossima